Musica 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 Allora, il grembiule, la gendina il microfono, microfono, miseria va bene, non fa niente sì, ormai siamo in onda, ciao Titta ciao Salvatore, ciao a tutti gli amici di Mattinotto, spero che come me vi siate procurati un quadernetto adesso andrò a caccia anche di una penna perché la ricetta di oggi è Titta mi raccomando perché so che a te piacerà moltissimo, di solito noi le prepariamo a carnevale oppure alle feste dei bambini ma guardate un po', io di chi sono ospite oggi Musica Angelo Tramontano 33 anni Executive Pastry Chef del Gran Caffè Napoli di Castellammare di Stabia vincitore del trofeo Un dolce per San Gennaro by Mulino Caputo edizione 2020 tra le sue grandi passioni il dessert al piatto e in particolare Terra Mia un dolce ispirato alla faccia di Pulcinella Farina? Sì Latte Ah eccovi, allora io mi stavo portando avanti con il mio taccuino e la mia pennuccia e i miei occhiali adesso metto così ma invece Angelo è pronto a raccontare anche a voi questa ricetta golosissima come vi dicevo nella presentazione, oggi graffette senti Angelo ma prima di cominciare la graffetta è una cosa che in casa magari si pensa che sia prettamente di carnevale per esempio oppure per le feste dei bambini questa è una di quelle cose meravigliose che si mangia tutti i giorni sempre il famoso comfort food cioè tu voi state un po' scocciati perché non c'è il lockdown e zac la graffetta come si fanno le graffette? Allora noi facciamo la, io personalmente faccio la graffetta con la farina nuvola di Molino Caputo perché proprio questa specifica? è proprio perché questa farina è per i lievitati è proprio perché ho bisogno di far sì che la mia graffia sia proprio una nuvola bene, lievitata ma morbida lievitata ma morbida fantastico poi immagino che ci voglia a questo punto se mi parli di lievito ci voglia anche il lievito caputo certo lievito caputo le nostre amiche da casa, i nostri amici già lo conoscono perché abbiamo spiegato che è un lievito secco quindi la comodità meravigliosa di usarlo così come fosse sale esatto poi cos'altro abbiamo? abbiamo sale sì abbiamo latte abbiamo uova sì burro burro a temperatura ambiente non liquido, non sciolto non liquido, mai quando si fa la graffia mai liquido senti, domanda, domanda terribile ma se uno il burro dice no perché io non so, sono intollerante per esempio ci può mettere la margarina? può mettere anche la margarina la margarina, vabbè e questo che cos'è? Il tuo segreto? abbiamo sempre, io personalmente in tutti gli impasti lievitati metto sempre aroma limone o aroma arancia a seconda di quello che faccio con una bacca di vaniglia e qui poi, ah ci eravamo dimenticati, lo zucchero perfetto siccome questo procedimento è un po' più complicato noi ce l'avamo portati avanti, io adesso ti prendo questo meraviglioso panetto perché naturalmente voi comporrete e farete la vostra fontanina con gli ingredienti che state vedendo certo li unite uno alla volta e dovrete avere un impasto che sia di questa leggerezza ma soprattutto che sia liscio e omogeneo come questo guardate, io penso che si veda la leggerezza, cioè al di là della famosa ditata sopra e torna indietro però proprio si percepisce, no? guardate quanto è morbido e leggero, non è insomma una pasta pesante assolutamente, assolutamente a questo punto però che cosa succede? a questo punto lasciamo riposare per almeno un'oretta, ok? sì una volta fatto dove lo mettiamo? lo mettiamo in un ambiente ovviamente caldo, non nelle zone fredde perché ovviamente se vi ho detto un'ora di riposare un'ora se è in un ambiente freddo ci metterà sicuramente un po' di più la famosa lucina accesa nel forno spento? anche quello può funzionare ci mettiamo sopra una pellicola oppure no? sempre pellicola a contatto a contatto o un po' di farina perfetto per far sì che non si formi la crosta ah ecco, vedi perché se no si secca fantastico mi pareva di ricordare che ce l'avevamo ah, forse sì, la andiamo a prendere ok a me quello che mi diverte tantissimo è la morbidezza di questo impasto la nuvolosità è vero allora questo è quello che viene fuori dopo un'ora più o meno vi dovete regolare poi da casa abbiamo dato il solito consiglio eventualmente di farlo riposare in forno spento ma con la lucina accesa poi Angelo che facciamo? lo stendiamo? sì, lo stendiamo ah, però semplice così con le mani soltanto allora lo possiamo sia decoppare con un coppa pasta famosa ovviamente avendo una forma rotonda quindi che poi farà avvenire tipo bombetta? assolutamente ah, ok tipo bombetta eccolo qua o andrò a incidere alla graffietta quindi ah, è vero il cerchietto così avrò la mia graffietta piccola per i bambini troppo carina o perlomeno mi vado a fare la mia graffietta tradizionale ovviamente come vedete come vedete l'impasto è morbidissimo vado a chiudere a forma di E di E che cosa carina questo naturalmente pure si friggere si friggerà se lo mangiamo lo stesso per vedere l'olio a che punto ha esatto usiamo questo senti questo invece io prima che tu facessi vedere che si può anche coppare pensavo che potesse venire tipo bombolone noi poi li apriamo e ci mettiamo un po' di crema prego che ne pensi? è pronto fantastico va bene aspetta io so che ce l'abbiamo già cresciute perché ora c'è un'altra fase ma ti devo fare una domanda mi ricordo quando ero piccola la mia nonna me le faceva ma ci metteva le patate mi ricordo bene perché non le so fare le graffie anche mio padre sostituiamo una parte della farina quindi su mezzo chilo di farina andremo a mettere sicuramente un 200 grammi di patate lisse quindi una percentuale di più o meno ovviamente la patata deve essere fredda quando andiamo a incorporare nell'impasto perché ovviamente andiamo non la possiamo mettere calda per non accelerare il lievito quindi per far sì che il lievito si bruci quindi eventualmente le bollite prima le fate raffreddare voi vi fate tutto quanto l'impastino e più o meno un 20% del totale della farina che ci dovete mettere a questo punto dobbiamo friggere no devono friggere queste qua sì devono friggere gliel'ho detto io assolutamente va bene voi dovete sapere aspetta allora concedimi no perché anche da studio ve lo devo raccontare oltre che agli amici che ci seguono da casa lui in questo periodo veramente ci sta facendo un grandissimo regalo a tenerci qui nel suo laboratorio a quest'ora pazzesca perché avete visto che c'è alle mie spalle sapeste che cos'altro c'è tutto lui è in piena produzione di panettoni perché comunque Natale ha le porte anzi vi preannuncio che con Angelo ci ritroveremo poi più sotto Natale ma non svediamo ancora niente ok quindi queste cose devono crescere le poggiamo sicuramente in un contenitore le mettiamo sempre con la spia della luce del forno accesa per almeno un'altra mezz'oretta quindi abbiamo due levitazioni e soprattutto una volta che hanno raddoppiato di volume andremo a friggere nel nostro olio caldo io vado a prenderle prego vado ah queste sono tutte proprio le graffe quelle vere si fatte a forma di E guardate la differenza questa è quella che lui ha fatto adesso con la pasta riposata solamente e queste sono quelle cioè diventano così alla fine ok allora olio come sempre qui tu fa metà in metà però ognuno fa sì ovviamente io faccio metà in metà però ognuno fa poi come meglio crede facciamo una prima prova con un po' di impasto quindi l'olio già è a buon punto quindi possiamo iniziare a prendere le nostre graffette ovviamente vi raccomando mettete sempre farina sotto a ogni contenitore così in modo da non farlo attaccare allora naturalmente questa è una frittura delicata quindi abbondante olio e non devono stare un addosso all'altra in cucina quando fate le graffette non dovete andare di fretta adesso mentre le nostre graffe si cuociono e il profumo anche con la FP2 è fantastico io vi faccio sentire la parola dell'esperto fantastico il parere dell'esperto a proposito di come sono cambiate le farine perché ce l'ha detto Angelo prima oggi si usa la nuvola quando si vuole una bella lievitazione che dia però un impasto leggerissimo tanti anni fa c'era un tipo di farina com'è evoluta la storia sentiamo la farina è un ingrediente importante che si tratta un po' in tanti piatti fa un'evoluzione diciamo in termini più tecnici che veramente di lavorazione negli ultimi 200 anni c'è da dire che grandi tecnologie nuove non sono state applicate per cui diciamo una molitura cilindri in ghisa tradizionale attraverso l'abburattamento quindi un prodotto molto naturale fatto quello caputo solo con il grano che evoluzione ha avuto ha avuto che noi siamo partiti da due prodotti base la farina e la crusca che sono le due componenti del chicco uno che va per mangime animale e l'altro che viene utilizzata per impastare ovviamente negli ultimi anni c'è stata una grandissima esigenza di fare dei dolci particolari immaginate il babà o immaginate una pizza o addirittura immaginate un grande lievitato come il pandoro e il panettone sono farine diverse che hanno caratteristiche diverse quindi col tempo noi azienda noi munico cabuto abbiamo evoluto le nostre conoscenze mettendo a frutto la grande conoscenza delle ricette napoletane incrociandole con la grande conoscenza del mondo dei grani attraverso un processo di macinazione lenta facciamo tanti tipi di farina che vedete un po' esplosi nei vari colori perché ogni farina è dedicata a un tipo di lavorazione diversa più breve la lievitazione o più lunga la lievitazione voglio più sensibilità voglio più forza nel glutine quindi le varie caratteristiche che andiamo a ricercare nella farina oggi sono molto varie quindi andiamo a dedicare a destinazione d'uso se devo fare pizza se devo fare un dolce grande o un dolce lievitato o un bellissimo biscotto o una torta pan di spagna questa è la grande differenza che poi si traduce in una differenza a forza delle farine certo è una fase delicatissima è una fase davvero delicata io purtroppo ho fatto un mezzo guaio perché l'ho toccata va bene non fa niente perdonami però sempre la forma 10 l'ha certo e quindi adesso andiamo a togliere le nostre graffiette sì perfetto e andiamo a immergere le nostre graffiette in un zucchero e un po' di cannella quello che mi hai fatto preparare prima vado a prenderlo eccolo qua questa è una genialata perché poi comunque lo zucchero si può recuperare lo mettete da una parte lo mescolate con un po' di cannella che profumo che mi ricorda di tutto e di più devono essere messe nello zucchero appena fritte vero? perché sennò dopo non attacca più lo zucchero ok mamma mia che belle che buone che tutto a impiattare la vostra graffiette poi se proprio siete golosi e ci volete mettere la crema e ci volete mettere quello che volete voi ma secondo me così sono già buone per conto loro allora tutto chiaro? sono certa che starete vedendo io non so mai dove sta ma c'è la ricetta di Angelo Tramontano e delle graffette ricordatevi che se per caso ci volete mettere le patate solo il 20% del totale della farina ma quella vera insomma la graffetta è fatta con la farina nuvola caputo da un pacco di farina a questa meraviglia passando per Angelo Tramontano che noi ritroveremo prima di Natale assolutamente e che ora lasciamo i suoi meravigliosi panettoni allora grazie a voi studio ciao alla prossima grazie mille grazie a tutti